Come pregare per ricevere miracoli? Come si fa? Volevamo imparare a pregare nel modo giusto. Luca 11,1 Gesù era stato in disparte a pregare quando ebbe finito uno dei suoi discepoli e gli disse Signore, insegnaci a pregare Insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Luca 11,1 Salmo 50,15 Invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Salmi 50,15 Alleluia Qui c'è l'immagine di un uomo, un giovane, buttato in un campo, buttato per terra in un campo che sta pregando. Non l'hai messo sulla radia, no? No, non l'abbiamo messa, no. Allora La mettiamo? Vuoi metterlo? Sì E allora metti anche l'angelo che viene dopo. Ok Io intanto vado avanti col messaggio. Sì, sì, vai avanti. Tu lavori lì. Gloria, gloria, Signora. Allora, fratelli, non è vero che a volte Dio sembra che Dio aspetta prima di rispondere alle preghiere? È vero? No, che sembra così. A volte sembra così. Non è vero? Sì. Perché Dio non mi risponde? Perché Dio non mi risponde? Bene, cercheremo di studiare a questo punto, vediamo se lo Spirito Santo ci dà qualche scrittura perfetta che parli al nostro cuore. Mi è capitato, fratelli, di pregare e Dio non risponde apparentemente? Sì. Perché a volte qualcuno riceve la risposta dopo periodi anche di anni ed altri, ed altri non la ricevono affatto? Non è una buona domanda? Sì. Caro mio. Guarda, ci fu un angelo una volta, appunto quella foto che devi mettere sulla radio. Un angelo di Dio che andò a visitare un sacerdote che si chiamava Zaccaria Luca 1,13. Luca 1,13. Ecco. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Amen. Al 18? E Zaccaria disse all'angelo, da cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio, mia moglie è in età avanzata. E l'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto. Non potrai parlare fino al giorno che queste cose si avvereranno. Perché? Non hai creduto le mie parole. No. Che si adempiranno a suo tempo. Luca 1,13 e 18 a 20. Insomma, Dio non ama chi va in giro a propagare dubbi come appunto Zaccaria avrebbe potuto fare. E allora Gabriele, qui questo è l'arcangelo Gabriele, toglie la parola a Zaccaria per nove mesi. Elisabetta era incinta a nove mesi e lui muto per nove mesi. Perché non ha creduto? Perché dubitava. Pregava però dubitava. Quindi nonostante Zaccaria, la moglie, è stato pregando per anni. Ah, pregavano per figli. La preghiera, pregavano per i figli. E' capito perché Gabriele ha reagito così. La preghiera era giusta di avere un figlio, ma evidentemente da come Zaccaria si rivolge all'angelo, Zaccaria dubitava. Le sue preghiere non erano perfette davanti a Dio. Ma facciamoci la domanda, non siamo così molti di noi a volte. Preghiamo e dubitiamo allo stesso tempo. Non crediamo di ricevere. E questo non è camminare in vera fede. Preghiamo e anche per anni per una cosa. E sembra che Dio non ci risponda. Una guarigione, una liberazione, una benedizione finanziaria. Mettere fine alle liti tra marito e moglie. Mettere fine. E quando Dio risponde, ecco che come Zaccaria troviamo il modo di dubitare. E questo ci porta a volte a perdere ciò che Dio vuole darci, per esempio una guarigione, Dio vuole darci una liberazione, eccetera. Ed ecco che i sette spiriti tornano e ci trovano inattivi, dubbiosi, vuoti di opere in Cristo. E allora, a parte la salvezza, tantissime delle nostre benedizioni dipendono da noi, dal nostro comportamento, dalla nostra ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Non possiamo pensare di poter vivere come servi infedeli ed essere benedetti insieme ai fedeli. Vedi appunto Matteo 25,14, la storia dei talenti. Quelli infedeli non possono essere benedetti come quelli fedeli. Oggi molti chiesi non capiscono questo perché il diavolo gli ha dato questa falsa grazia che fregatene tanto c'è la grazia. No caro mio, ci sono i comandamenti e poi ci sono i premi e le punizioni. Quindi la preghiera di Zaccaria era giusta e certamente che Dio voleva rispondergli e vuole rispondere anche a noi. Ma se il nostro cuore non è integro per il Signore e non è pieno di fede ma è misto a dubbi, e allora Dio non risponde, Dio aspetta. Ma per il nostro bene, che se Dio rispondesse alle preghiere a mezzo cuore, allora basta, è sufficiente mezzo cuore. Cos'è mezzo cuore e cuore pieno? Il cuore pieno costa, c'ha un prezzo. Qual è il prezzo? Abbandonare l'egoismo, abbandonare i dubbi, abbandonare i cattivi comportamenti. Ecco, il cuore pieno non è gratis. Costa, innanzitutto spiritualmente, costa andare a dare amore a una persona quando non te lo senti, perdonarla quando la vorresti odiare, quando vuoi dare una ripicca invece di un perdono. E allora questa è la preghiera che Dio risponde. Andiamo a Giacomo 1? Sì. Per favore, 6 fino a 8. Giacomo 1, 6. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1, 6 a 8. Questa è la parola. Non ascoltate le cretinate che vi raccontano i falsi profeti. C'è la grazia. Sono falsi profeti. Prima della grazia ci sono i comandamenti di Cristo. Scrivetevelo. Perché ci sono in giro falsi profeti, agenti del diavolo nelle chiese a dire la grazia, la grazia. È la falsa grazia. La vera grazia è una forza per aiutarci a mettere in pratica la parola. Non per coprire le ribellioni, i peccati, le disubbidienze. E allora dobbiamo imparare a pregare e non dubitare e pregare nel modo giusto. Il motivo che spesso non riceviamo risposte o il miracolo o la guarigione è perché, sì, preghiamo, però anche dubitiamo, come ha fatto Zaccaria. E dovremmo essere tutti muti, come Zaccaria, perché tutti abbiamo fatto questo sbaglio. Abbiamo dubitato mentre pregavamo. Non credevamo di ricevere. E lì, il Signore dà un esempio. Ha messo a morte Anania Saffira. Il Dio dà degli esempi. Però noi dobbiamo addrezzare le orecchie e capire qual è il metro di misura di Dio. Quello che l'angelo ha fatto con Zaccaria è un metro di misura. Non puoi pregare e dubitare. Può una fonte dare acqua velenosa e acqua buona? Non può e diventa tutta velenosa. Prova a mischiare acqua pura con acqua velenosa. Cosa è il risultato? È tutta acqua velenosa. Se tu preghi dubitando, anche le cose buone che fai diventano dubbiose. E allora, guarda, andiamo a... Primo Crenzi 5, andiamo. Per imparare a pregare e non dubitare. Sì. E verso 6. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Primo Crenzi 5, verso 6. Un po' di lievito e di dubbio fa lievitare qualunque buonissima preghiera. Gesù lo ha detto. Marco 11, 22, 23 ha detto quando pregate, se uno prega e non dubita, può spostare alle montagne. Ma se dubitiamo non puoi guarire neanche di una piccola... non so, una piccola ferita. E questo lo dico a me stesso. Nella fede si cresce. E dobbiamo crescere anche nel pregare correttamente. Stiamo pregando nel modo giusto? Molti si lamentano che non ricevono, ma stiamo pregando nel modo giusto. E loro riceveremo quello che Dio vuole darci. Ma che i nostri dubbi fermano. Guarda, vediamo il re 18, primo re 18, quello che Elia stava cercando di far capire a Israele. Cos'è che stava dicendo Elia? Andiamo al 21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse Fino a quando zoppicherete da due lati, se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguitelo. E il popolo? Il popolo non gli rispose nulla. E cos'è che gli risponde? Primo re 18, 21. Grazie Signore. Il popolo Israele amava Dio. Certo che lo amava. Era lì a ascoltare Elia. Sicuramente un po' di sale doveva esserci. Adulterava la pura fede perché onorava anche Baal. Se Dio fallisce c'è Baal. Quindi in maniera o l'altra sono a posto. Ed Elia gli dice Fino a quando zoppicherete da due lati. Dio non vi riceve 50-50. E a volte anche noi siamo stati così. La nostra carnalità vuole assicurarsi che in caso Dio fallisce abbiamo una ruota di scorta. Qual è la ruota di scorta? La ruota di scorta è del mondo. E così come la fede ci guida a Dio, così i dubbi ci guidano al mondo. E allora finiamo che non facciamo felici né Dio e né il mondo. Appunto zoppichiamo dai due lati. Chi di noi non è stato così? Chiunque di noi è stato così, ma non dobbiamo rimanere così. Amen. Si chiama cuore pieno. Ammerai il Signore? Sì. Con tutto il tuo cuore, tutto, tutta la tua mente. Tutta, tutta la tua forza. E allora a volte critichiamo il drogato, il pornografo, l'egoista. Ma se non abbiamo dato veramente il cuore al Signore, noi neanche noi siamo migliori. Insomma, dobbiamo soffiare via quel talco di apparenza pia, santimoniosa e cominciare a pregare di vero cuore. E' una decisione che possiamo fare solamente in segreto. Via le trombe, appoggiare sul tavolino i cimbali, le trombette, e andiamo in un posto segreto e lì parliamo con Gesù. Parliamo a voce alta, in italiano, in lingue. Facciamo un patto col Signore. Signore, il mio cuore adesso sarà tuo, solo tuo, sempre tuo. Sì, certo, cascheremo qualche forza di qui, qualche forza di là, ma se da quella forza guarderemo a Gesù, tutto bene, possiamo uscire. E quello vorrei chiederti. Cosa faccio quando io non voglio dubitare, voglio pregare con tutta me stessa, con tutto il cuore, con tutta la fede? Voglio avere fede? Cosa faccio quando prego e la mia mente carnale mi butta un dubbio qui, un dubbio là? Io non lo voglio, però la mente fa il suo lavoro sporco e mi scoraggia. Voglio mettere tutto me stessa. Cosa faccio? E credo che dipende che tipo di patto che hai fatto con Gesù, dipende se hai dato veramente il tuo cuore, la tua anima a Gesù. se veramente, veramente hai dato tutto, tutto te stesso. Allora non importa se viene un diavolo travestito di donna nuda o uomo vestito o marchio della bestia o la moglie perfetta, il marito perfetto, la fidanzata perfetta. Cioè però quando vedi che c'è il diavolo di dietro, dice no, io ho fatto un patto con Gesù. E no, io non mi vendo. Tutto dipende da cosa hai, cioè che tipo di relazioni hai con Gesù. E una relazione religiosa, allora tranquillo. Che vai in chiesa e che non vai allo stesso. Se è una relazione religiosa. Ma se è una relazione con Gesù di cuore a cuore, comunione, di vero cuore. Guarda, tutto il mondo può andare a seguire il marchio della bestia, compreso qualche chiesa che sta andando magari. Tu nel tuo cuore seguirai Gesù. A me mi è capitato di lavorare con fratelli che mi sono dovuto separare. Ho lavorato con diversi missionari di qua e di là. A volte io ho fatto un sacco di sbagli, ho sbagliato di qui, ho sbagliato di là. Però se sono qui oggi ancora a seguire Gesù nel poco che posso, vuol dire che mi sono rialzato, ho guardato Gesù. E poi è capitato anche, sono stato in contatto con chiese, organizzazioni e andavano fuori binario alcune di queste. Io ho dovuto scegliere. E cos'è che mi ha fatto scegliere? Cos'è che mi sono trovato in contatto con persone che io amavo? E che sono andato in una strada diversa? Non stanno più lavorando tempo pieno per il Signore queste persone. Io ho dovuto scegliere. Amore per queste persone o amore per la volontà del Signore? Vediamo in Matteo 7, 21, 23 che dicono abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro per te, abbiamo profetizzato. E Gesù non li contraddice. Evidentemente avevano veramente profetizzato e cacciato demoni nel nome di Gesù. Però gli ha detto una cosa. Dice, non avete fatto la volontà di Dio. Mi puoi leggerlo la scrittura, quella linea lì, Matteo 7, 21? Sì. Dove dice, colui che fa la mia volontà, così è verso 23? Aspetta, Matteo 7. Credo che sia 23. 21, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Matteo 7, 21. Chi fa la volontà del Padre mio? Capito? Tu puoi fare miracoli, cacciare i demoni, puoi guarire le persone, puoi avere una chiesa con 20.000 pecore lì, eccetera. Ma è volontà di Dio. Abbiamo visto, c'è un esempio, vuoi sentire un esempio sui giornali di tutti i giorni? Sui giornali di tutti i giorni c'è uno che si chiama Prigojin, era il gruppo militare più potente, più forte, più organizzato, vinceva sempre. E però voleva fare una cosa molto sua, il gruppo Wagner. A un certo punto il diavolo gli ha riempito la zucca, diciamo il diavolo, facendo la guerra sono tutti del diavolo, in un certo senso, però dice adesso tu puoi fare il presidente al posto di Putin, tu puoi andare al cremellino di essere presidente e vedrai che adesso tutti i russi ti seguiranno a te, non era vero niente. Quindi sto traducendo in linguaggio bellico, politico, perché sapecchè sui giornali oggi. Cioè questo qui faceva la volontà del suo signore Putin e vinceva le battaglie, erano bravissi a combattere, erano i migliori, però lo volevano fare a modo loro. Il suo signore Putin voleva che lui si sottomattesse ai generali, al ministero della difesa e ubbidisse. E lui no, io non ubbidisco a nessuno, solo a me stesso. E allora si è riempita la testa di superbia, di orgoglio e voleva fare il presidente al posto di Putin e tutti lo hanno mollato e adesso è lì all'ospizio. Magari fra poco lo tireranno fuori, tornerà ad essere meglio di prima, non lo so. Questo è un esempio, cioè possiamo fare tante cose per Dio, tante cose per Gesù, però per mostrare come io sono in gamba, come io sono potente, io sono fedele, io sono... Però è la volontà di Dio. Vuoi andare in guerra e vuoi andare lì a combattere contro i cararmati, ma forse il comandante vuole che stai lì magari a pulire i cessi, vuole che stai lì magari a imparare l'ubbidienza. Quante volte avremmo voluto... Chi di noi non ha voluto essere un grande profeta, un grande evangelizzatore, che ogni giorno vince anime, chi non ha voluto? Io voglio anche adesso. Però il Signore invece ci ha mantenuto a livello umile, perché per il Signore era più importante che noi imparassimo l'umiltà, la sottomissione, l'ubbidienza al Signore e ai fratelli più anziani di noi, invece che andare nel campo di battaglia e vincere le battaglie, vincere i demoni, cacciare i demoni e fare i miracoli, avere una chiesa con diecimila e con tante guarigioni in continuazione. Ma è la volontà di Dio. Ha imparato l'ubbidienza, ha imparato l'umiltà, ha imparato la sottomissione. Lucifero era un grande angelo e lui aveva molti angeli sotto di sé. E sicuramente chissà quante cose grandiosi che faceva, chissà che miracoli, chissà che... Lui era una specie di Prigogine e i suoi angeli erano una specie di Wagner e vincevano sempre qui e là, eccetera, eccetera. Volevano solo un po' più, un po' di libertà, un pochettino di fare quello che vogliono loro, un pochettino di adorare Dio un po' di meno, o poi ancora un po' di meno, di meno, di meno e facevano sicuramente, credo che facevano cose grandiosi per il regno di Dio e il diavolo poteva essere, dice io, io al posto di Dio, io come... Così era quello là che secondo Samuele che diceva se io fossi re, figlio di Davide, Absalom, Absalom, se io fossi re, io farei giustizia a tutti, tu vieni qua, perché sei venuto di Gerusalemme, io ho un problema, oh, se io fossi re. E dice la scrittura che rubò il cuore di Israele. Il diavolo ha fatto lo stesso con i suoi angeli. Prigogine ha fatto lo stesso con la sua Wagner. E adesso la Wagner è diventata nessuno. Vedremo come finisce la storia. I Wagner sono soldati mercenari, estratti, presi dalle prigioni, criminali. Capito? Questo si applica anche alla Chiesa. Leggi, vuoi leggere quello lì per bene, Matteo 7, 21-23? Matteo 7, 21 Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni? E fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 21-23 Glorie a Dio. Vedi, qui, Signore, non è molto impressionato dei miracoli, cacciare i demoni, opere potenti. Questa è una lezione che il Signore mi ha insegnato tanto, 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 tanti anni fa. Dice, Signore, io ho imparato questo, ho imparato questo, so fare questo, so fare questo, so fare questo. Perché non, Signore, un'organizzazione, una chiesa, qualcosa che io posso, altri, quindi altri pastori che sono chiese, grande, io invece sono un po' lo disgraziato che solo so evangelizzare per le strade, una pecora alla volta. Signore, perché? E c'è Dora che ride perché lei era una di quelle pecore. Perché, Signore? Il Signore preferiva, attenzione, sprecare le opere che io potevo fare per Lui, le pecore che dovevo raggiungere per Lui e tante, pur di tenermi livello stala di Betlemme affinché imparassi lezioni più importanti che non vincere diecimila discepoli, creare cento chiese con edifici grandi, eccetera. Più importanti, lezioni di cose, di umiltà, di ubbidienza, di sottomissione, lezioni di stare zitto quando vuoi parlare. Ho imparato poco, ci sto ancora lavorando. Il Signore dà più importanza che tu diventi un angelo potente, ti dirò di più. Il Signore è più interessato che tu impari a non cadere come Lucifero. Il Signore ci sta insegnando che quando andiamo in cielo non dobbiamo cadere come Satana. E allora lui aspetta. E il Signore spreca situazioni che noi potremmo produrre per il Signore. Perché Dio non ci ha fatto i Suoi schiavi, ci ha fatto i Suoi figli. E se richiamo diritto ci chiamerà Suoi amici. Gloria a Dio. Non è un negriero come certe religioni che i loro religiosi vengono chiamati schiavi. Così certe religioni li chiamano, i seguaci. Allora la domanda era cosa fare quando arrivo al dubbio? Sì. Era questa la domanda. Sì, quando vuoi pregare con tutto te stesso, però anche la mente ti invia un dubbio. Che fare? E poi in modo pratico, pratico, terra a terra, diciamo, preghe in lingue, l'ho del Signore. E questo scaccia il dubbio. Questa è la spada di Dio che scaccia, che il dubbio è un demone. Quando tu dubiti vuol dire che il diavolo si è avvicinato un po' troppo. E allora devi svegliarti e anche se dormi, svegliati nel sonno, se stai sognando che il diavolo si avvicina, nel sogno sgrida il diavolo. Ecco cosa devi fare. Lodare il Signore, pregare in lingue e ritorno al punto di prima. Tutto dipende da che tipo di patto hai fatto col Signore. Hai fatto un patto di amarlo, servirlo, tutto quanto, non basta. Hai fatto il patto che tu sarai un cristiano, un discepolo, un missionario. Non basta. Devi dare tutto il cuore. E poi Dio ti mette alla prova. Va bene? Prendi il tuo Isacco. Qual è il tuo Isacco? Puoi sapere qualunque cosa. Una casa, una moglie, un marito, dei figli. Isacco. Qualunque cosa. E ti chiede, mettila sull'altare. A me mi è capitato diverse volte. E allora cosa ho fatto? A volte erano anche soldi. Tutti i soldi che avevo. Ho dovuto regalarli. E Dio mi ha detto di farlo. E però il Signore mi ha benedetto, strabenedetto, ultrabenedetto. E ho superato la prova. Perché quando Abramo mise il suo Isacco sull'altare, Dio lo benedì. Per l'eternità. Quando il Signore ti chiede di sacrificare una cosa spirituale, sacrificare il tuo orgoglio, sacrificare la tua superbia, sacrificare le tue abitudini, cose materiali, se lo fai, il Signore ti benedirà cento volte tanto. E perché a volte c'è altra gente invece, che invece non hanno queste benedizioni, non ricevono queste benedizioni, pregano, se non rispondono. Perché non hanno dato tutto il cuore. quando Dio ha detto di mettere quella cosa sull'altare, che può essere magari quella mancanza d'amore verso il marito, verso la moglie, verso il fratello, non lo so. Non l'hanno fatto. Però vogliono essere benedetti. Quindi come il contadino che dice, come mai qua tutti stanno mietendo? Io no. Cos'è seminato? E io ho seminato un po' di pigrizia, poi ho seminato un po' di dormire la mattina abbondante, poi ho seminato un po' di bere il vino quando dovevo andare a lavorare, e poi non cresci niente. Perché Dio non mi ama. No, tu sei un... Non voglio dire dannato Lazzarone, perché non suona molto bene, no? Allora diciamo Lazzarone. E allora fratelli svegliamoci per cortesia. Ameno. E mieteremo quello che abbiamo seminato. E quando il dubbio arriva, la spada pronta, perché ogni giorno noi leggiamo la parola, memorizziamo quello che possiamo, uno c'è un cervello che funziona, e memorizza due scritture al giorno. Quell'altro è un piccolo vecchio, quasi rimbambito come me, mezza scrittura, una linea, ripassarla, meditarla, e quella fedeltà, il Signore la benedice. Grazie, Gesù. E quando arriva il dubbio, lo caccia via. Amen. Allora fratelli, conclusione, controlliamo il nostro spirito, lavoriamo sulla nostra mente, sul nostro cuore diviso, diviso tra Dio e il mondo. Un po' Dio e un po' al mondo. e decidiamo, perché sì, si tratta di una decisione, di mandare all'inferno i nostri dubbi, le paure, le ambiguità, le incertezze, e lavorare. Lavorare il miglior lavoro del Regno di Dio. Qual è? Lavorare sulla nostra ginocchia, crescere nel nostro cuore pieno per il Signore. e questa è la mia preghiera per me. Spero che sia anche per voi. Una volta che, per grazia divina, abbiamo imparato questo, allora finalmente potremo amare il Signore Dio nostro con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutta la nostra mente. A mano. Matteo 22, 37. E allora Dio potrà usarci come Lui veramente desidera. E allora finalmente pregheremo e Lui ci risponderà. Salmo 86, verso 7. Io ti invoco, Signore. Io ti invoco nel giorno della mia angustia, perché Tu mi risponderai. Salmo 86, 7. Tu mi risponderai. Tu mi risponderai, perché nell'angustia io non bestemmierò, non mi lamenterò, non dubiterò, non tratterò male mia moglie, la moglie, o il marito, o i figli, o i genitori. Io invocherò il Signore e Lui mi risponderà. Salmo 91, 15. Il Signore dice che glorificherà i Suoi figli che lo invocano. Dice che Lui risponderà. nessuno di noi può pensare di fare apparire Dio bugiardo. Qui ci sono delle promesse. E allora proviamo a mettere tutto il cuore nelle mani di Gesù e vediamo poi se non ci risponde. Se non ci risponde sarà un bugiardo. Ma io posso testimoniare. Da 50 anni che testimonia questo. Dio risponde. E se Dio non risponde, se quella malattia non è guarita, se quei soldi non arrivano, non è Dio che ha fallito, ma sono io. Sempre dare la gloria a Dio e sempre prendermi io le colpe. Questo è l'equilibrio giusto. Isaia 65, 23, 24 e basta. Non si affaticheranno in vano. Non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rampolli staranno con essi. E avverrà? Averrà che prima che mi invochino io risponderò. E parleranno ancora? Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia 65, 23 e 24. Ripete le referenze. Isaia 65, 23 e 24. Alleluia. Grazie Gesù. Signore, non dice che ci risponderà. No, prima che lo invochiamo. Non dice che ci esaudirà. Prima che avremo chiamato. Grazie Signore. E mi è capitato anche di questo, mi è capitato, di ricevere benedizioni importantissime che senza neanche avevo chiesto. una di queste, mia moglie Deborah, non avevo mai pregato di sposarla. E come faccio un brutto come la notte? Le 24 anni più giovane andare a rovinarsi in uno come me. Eppure sono arrivati sei figli, uno più pazzo dell'altro. Il che vuol dire che è la marca giusta. Gloria a Dio. La marca giusta. La marca giusta. La marca giusta. Sei uno più crazy che l'altro. Hai capito? No, no, perché se gli dicono i più belli dell'altro questi si montano magari. If we tell you one more beautiful than the other he goes to your head. He goes to your head. Capito? Allora qua mi è tenuto a dare un colpo alla botte e uno al cerchio e una pacca sulle spalle e un altro più basso dalle spalle. Capito? We to give you a pat on the back and one lower than your back. E qua mi è tenuto a dare tutti in riga qua ragazzi. Vero. Gloria al Signore. Allora, senti, io meglio che mi fermo prima che i fratelli mandano un'e-mail fermati perché quasi le cose si allungano. Sai una cosa che il Signore ha fatto? Questo messaggio che il Signore ti ha dato abbiamo ricevuto ieri sera una testimonianza in audio da parte di Maurizio che è perfettamente in linea con questo messaggio perché lui ha chiesto preghiera una settimana fa per dei funghi cutanei ha detto che da 17 anni che ho questi funghi e dopo che ha chiesto preghiera ha visto miglioramenti e ha scritto dicendo che così in meno di una settimana sono sconfitti questi funghi cutanei poi ha inviato questo messaggio in audio dove lui racconta un po' più dettagliato le cose che sta imparando attraverso questa guarigione ed è proprio quello riguardo che tu hai detto al dubbio il modo di pregare e anche di lavorare sui piccoli miracoli non solo quando hai un problema grande ma anche nelle cose piccole essere fedele e credere e non dubitare e ricevere il miracolo ascoltiamo quest'audio insieme di Maurizio di Maurizio gloria a Dio un abbraccio Maurizio grazie che adesso mi insegnerai con il tuo messaggio un messaggio di sette minuti giusto? si giusto andiamo si ciao fratelli e sorelle io vi benedica volevo darvi la testimonianza riguardo alla guarigione dei funghi cutanei quello che avevo chiesto preghiera per la settimana scorsa volevo veramente tanto parlare di riguardo a questo perché a me il signore qui mi ha insegnato qualcosa di importante su cui devo continuare tanto a meditarci e a lavorarci ancora tanto su questo problema qua che chiamarlo problema e veramente definirlo in modo esagerato questi funghi che avevo sulla schiena era una cosa che c'era sul mio corpo da dici e sette anni voglio dire qualcosa che ti abitui alla fine che ci convivi non ti dà mai problemi dolore o cosa per cui magari anche disperarsi e solo nell'ultimo mese c'è stato un piccolo cambiamento per una serie di cose e si sono aggravati un pochino di più e con il caldo il sudore mi davano ogni tanto del bruciore un po' di bruciore ecco allora quel signore mi ha messo nel cuore di chiedere preghiera e così ho fatto oltre a questo metto le mani avanti questa qua è la mia fede non è che voglio incoraggiare qualcuno a fare come faccio io perché ripeto questa è la mia fede io sono non prendo medicinali non assumo alcun tipo di medicinale non credo nei medicinali e al massimo quello che faccio è prendere integratori naturali tipo vitamine cose così per dare sostegno al corpo oppure usare dei metodi naturali ma in sostanza quello che è nella mia fede è che io preferisco morire ma voglio che sia fatta la volontà di Dio cioè nel senso io preferisco morire ma se devo guarire che sia Dio a guarirmi voglio dare gloria a lui non a un farmaco non a qualsiasi altra cosa ripeto questa qua è la mia fede non è che sto incoraggiando qualcuno a fare come faccio io comunque come ho affrontato questa cosa ho richiesto preghiera ho iniziato a darmi da fare facendo la mia parte e poi ho continuato ho continuato ho continuato a discapito anche di alcune volte in cui magari facendo vedere ai miei colleghi questa cosa che avevo sul corpo alcuni mi dicevano ma io fossi in temi farei comunque vedere perché non avere troppe speranze non voglio darti farsi speranze ma secondo me devi farti vedere devi prendere qualcosa e io continuavo invece a insistere ma no 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 vai tranquillo guarda che sta già guarendo non vedi che che cambiamento da ieri a oggi ho continuato così anche se effettivamente non è che ho visto subito i miglioramenti non ho tutta questa fede da ricevere una guarigione miracolosa istantanea credo più in una guarigione progressiva questa è la mia fede e però così è stato ma la lezione importante riguardo appunto questa guarigione sta appunto nel fatto che tante volte adesso magari ci sono altri fratelli e sorelle nella mia situazione o in una situazione simile in cui hai qualcosa un problema da tanti anni che alla fine ci convivi ti ci abitui e a volte non ritieni neanche necessario di scrivere quella mail per chiedere preghiera per la guarigione di quella particolare cosa perché tu non senti di riuscire a ricevere la guarigione non senti che sia una cosa importante beh provaci fallo perché quello che mi ha insegnato il signore ci stavo meditando giusto un paio di giorni fa dove ci stavo pregando su questa vittoria e il signore mi ha parlato e mi ha dato come esempio quando Gesù stava camminando sulle acque e aveva chiamato a sé Simone Simone inizialmente aveva la fede camminava sulle acque poi ha dubitato ed è affondato e il signore cosa gli ha detto perché ha dubitato ora la lezione importante che mi ha dato è stata proprio riguardo a questo che il dubbio lo si può soltanto sconfiggere con una fede cieca e che se ci pensi il dubbio non può resistere alla fede cioè se tu continui a camminare per fede andare avanti per fede anche se c'hai il dubbio perché comunque siamo imperfetti nella tua mente carnale con il dubbio ci sarà sempre ma tu continui ad andare avanti per quella strada per quella fede verso quella guarigione il quale il signore ti sta chiamando verso quella vittoria quella liberazione per cui è pregato ma il dubbio non può resistere non c'è niente di più potente dello spirito santo non c'è niente più potente di Dio non c'è niente più potente di quello che Dio ha promesso per noi Dio è della nostra parte di conseguenza non c'è un attacco del nemico non c'è una malattia non c'è una maledizione che può resistere alla luce nella potenza dello spirito santo non è una cosa che noi possiamo magari concepire o capire o comprendere fino in fondo ma è proprio qua che sta il discorso di andare avanti per fede ignorando il dubbio che c'è in noi non dico che non ci sarà perché siamo imperfetti ci sarà ma noi ignoramolo lo ignoriamo e andiamo avanti per fede e la vittoria arriva per forza garantita al 100% perché Dio è infallibile Dio non può perdere siamo noi che perdiamo se ci abbandoniamo al dubbio ma se andiamo avanti per fede ecco che la guarigione arriva e lì davanti a noi dobbiamo soltanto continuare a camminare su quelle acque avendo fede in chi ci sta chiamando a quella guarigione o a quella liberazione questo è quello che ho imparato io e ora devo chiedere preghiera per continuare a camminare su questa strada perché potrei inciampare da un momento all'altro comunque sì c'è tanto da imparare da questo è un grandissimo addestramento tanto da meditarci e vi incoraggio almeno a prendere in considerazione l'idea di meditare su questo perché sono sicuro sono convinto che tanti di voi che sono in ascolto si troveranno si sono trovati in una situazione simile alla mia bene non scoraggiatevi andate avanti con tutte le vostre forze non arrendetevi e tenetevi saldi alla speranza e alla fede che avete in Gesù per quanto piccola sia per quanto poca sia quella piccola pochissima speranza che avete e fede che avete basterà sconfiggere qualsiasi cosa nel nome di Gesù Amen 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 grazie Maurizio per condividere questa lezione bellissima ci uniamo a te siamo esattamente lo stesso c'è la fede sì c'è credere nei miracoli abbiamo visto tanti miracoli ma c'è anche il dubbio che viene e ci attacca quindi condividiamo 100% resistere al dubbio ignoralo non dare attenzione vai avanti in fede la parola proclamare resistere e vincerai perfetto Angela no perfetto Maurizio perfetto benissimo bello bello questo fratello che un insegnamento prezioso semplicemente resistere al dubbio ogni volta che viene 10 volte al giorno 100 volte al giorno resistere e poi la Bibbia dice e lui fuggirà da voi gloria a Dio mi piace anche quello che ha detto sulle cose piccole gli acciacchi piccoli che abbiamo tutti nel corpo non prestiamo attenzione perché siamo abituati a convivere con quel dolore con quella imperfezione nel corpo ma lui dice no lui da 17 anni che ha questi funghi cutanei adesso nel nome di Cristo vengono sconfitti in meno di una settimana vede risultati vede guarigione e quindi non dobbiamo sopportare quelle cose non vengono da Dio rigettiamole rigettiamole Amen